Sono Maria Pia Milanesio, partecipo al Comitato Imprenditoria Femminile quale rappresentante di AIDA. Le capacità maneggeriali di una donna sono le stesse di quelle possedute da un uomo. Donne e uomini possono avere ai vertici e nella cosiddetta say suite, grazie al loro lavoro, competenza e perseveranza. Il Comitato Imprenditoria Femminile da anni cerca di supportare lo sviluppo professionale delle donne, la crescita di carriera e il raggiungimento delle posizioni apicali. Riteniamo opportuno motivare le nostre donne e per questo ci siamo poste come obiettivo di organizzare dei percorsi di formazione in tema di leadership e di empowerment, portando ad esempio, proprio come durante questi corsi, storie di leader uomini e donne che possono essere dei volano per le donne che intendono affrontare un percorso di crescita professionale.